Il nostro impianto non è una stufa, non è un impianto, è un reattore chimico e realmente un reattore chimico ha delle emissioni che sono indipendenti dai combustibili che vengono utilizzati. Questo è dimostrato e dimostrabile e la nostra sperimentazione, prima di arrivare al progetto di adeguamento e di ampliamento dei combustibili alternativi, lo ha verificato, non sperimentato. Noi abbiamo dal 2007 al 2012 fatto 5 anni nei quali abbiamo utilizzato questi prodotti e abbiamo visto degli impatti in termini di emissioni assolutamente positivi. Così il direttore dello stabilimento di Cementi Rossi, l'ingegnere Giuseppe De Benedictis, ha spiegato all'aggiunta d'Osi ad alcuni esponenti del Consiglio Comunale la scelta di aumentare i combustibili alternativi bruciati. Un progetto concesso a Cementi Rossi contro il quale Lega Ambiente ha presentato ricorso al Tari insieme a 42 cittadini e all'Associazione Genitori Antismog. Il ricorso chiama in causa azienda, comune e provincia per i pari riforniti. Riteniamo che un tema così delicato che genera molta sensibilità ambientale nella comunità piacentina debba essere approfondito con cognizione di causa. Questa è un'occasione per noi nuova che però vorremmo replicare e vorremmo che la comunità entrasse a conoscenza nel merito della consistenza dei problemi. La visita è molto utile e credo che anche la comunicazione di dati complessi debba essere letta con molta attenzione, non in modo ideologico ma in modo il più possibile scientifico per essere consapevoli delle scelte che vengono fatte. Durante la visita di dosi degli assessori e dei consiglieri all'azienda si è parlato anche del problema CO2. Secondo Cementi Rossi la quantità si è ridotta notevolmente. Abbiamo risparmiato 115.000 tonnellate di CO2 e viaggiamo con un risparmio dell'ordine di 30.000 tonnellate di CO2 per anno considerando questo rapporto che c'è tra i combustibili alternativi e i combustibili convenzionali.